Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Amici, si lasciano scappare il vincitore dell'edizione del talent show Era già tutto raccomandato.Amici, Maria De Filippi.Anche questa attesissima e seguitissima edizione di Amici giunge ormai alle sue fasi finali Il noto talent show di Canale 5, diretto e condotto da Maria De Filippi, ha riscosso anche per questa edizione un enorme seguito riuscendo a tenere letteralmente incollati al televisore migliaia di telespettatori ad ogni puntata A pochissimi episodi dall'attesissima finale l'emozione e le aspettative del pubblico sono quindi alle stelle e la tensione dei candidati è palpabile In questa atmosfera di grande attesa e trepidazione per la finale i bookmakers si sono già espressi ed hanno decretato il nome del concorrente dato per favorito assoluto alla vittoria di Amici 21 Amici 21, chi sarà il vincitore? Amici 21 prosegue a gonfie vele nelle sue fasi finali Le ultime puntate serali sono state piene di sfide emozionanti, di novità e soprattutto di emozioni Sia per i concorrenti i quali hanno potuto continuare a sognare la tanto agognata vittoria in alcuni casi oppure hanno visto infrangere i loro sogni contro il duro verdetto dei giudici in altri Ma emozioni anche e soprattutto per il grande e folto pubblico di telespettatori che segue sia in tv che sui social il talent show della De Filippi Se la passata edizione ha visto trionfare una ballerina, Giulia Stabile, i bookmakers hanno ipotizzato la vittoria di un cantante per questa edizione del 2021 Ed effettivamente i cantanti hanno davvero avuto un successo strepitoso nelle ultime edizioni del serale di Amici 21 I pezzi inediti dei cantanti in gara hanno tutti riscosso una approvazione praticamente unanime di pubblico e critica, al netto ovviamente delle preferenze personali Le previsioni sono rese ancora più complesse dal nuovo meccanismo di scelta del vincitore La tesissima finale infatti si svolgerà in diretta e vedrà la presenza di un televoto a decretare il vincitore Il pubblico da casa avrà quindi ruolo centrale e fondamentale nella scelta del vincitore, ma non esclusivo Il televoto inciderà infatti soltanto per il 50% nella scelta del vincitore mentre l'altro 50% darà deciso dal parere dei giudici Ecco perché i bookmakers hanno individuato come probabile vincitore il cantante Luigi Luigi gode infatti di un altissimo seguito sociale e delle simpatie di due dei tre giudici, in particolare Stasce e Stefano De Martino Staremo a vedere se i bookmakers ci avranno visto giusto o se a trionfare sarà un altro dei concorrenti in gara Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video